A tutti rinnovo il mio saluto, benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l'intera cittadinanza. Siamo Nanzi. In Abruzzo, territorio da sempre forte e gentile, lo Iemo a Nanzi, pronunciato da Papa Francesco Rinsalda, la grande volontà di resilienza di una popolazione troppo spesso martoriata dalle calamità naturali. Un messaggio che butta acqua sul fuoco e spegne in mondo visione anche le tante voci di un suo farsi da parte, come il predecessore Ratzinger, Papa Francesco all'Aquila per aprire la porta della perdonanza. Dopo l'arrivo in elicottero ha abbracciato i familiari delle vittime del terremoto del 2009, in cui persero la vita 309 persone. Voi, gente aquilana, avete dimostrato un carattere resiliente, radicato nella vostra tradizione cristiana e civica. Ha consentito di reggere l'urto del sistema e di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente della ricostruzione. Poi il pontefice è entrato nel Duomo ancora inagibile, indossando un caschetto dei vigili del fuoco. In Papa Mobile, tra ali di folla dei fedeli, l'arrivo sul sagrato di Collemaggio, presidendo la Messa delle Dieci. Il messaggio che è diffuso è di non perdere mai la fiducia, di non scoraggiarsi davanti alle difficoltà, così come aveva fatto in mattinata il pilota del suo elicottero. Nevi affitta, tutto oscuro, non si poteva. Il pilota dell'elicottero girava, 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 girava. Alla fine ha visto un piccolo buco e è entrato lì e è riuscito un maestro. Poi al termine la recita dell'Angelus dedicato al perdono e alla pace in Ucraina. Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvive nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia. E se la visita alla tomba di Celestino V, il primo Papa che rinunciò al suo ruolo di pontefice, aveva, nei mesi scorsi, alimentato speculazioni, Francesco invece, a sorpresa, corregge Dante e dice Ma Celestino V non è stato l'uomo del no, è stato l'uomo del sì. Poi l'apertura della Porta Santa. Francesco è il primo pontefice a compiere questo gesto simbolico, vestito con il pivale per cuote per tre volte i battenti dell'antico varco con un ramo d'ulivo che gli è stato portato dal sindaco Biondi. L'indulgenza che Celestino V ha concesso nel 1294 a quanti con il cuore contrito si sarebbero recati ogni anno ai vespri del 28 agosto si è rinnovata e dopo la visita il Papa è tornato in Vaticano, lasciando in dono la proroga per un anno dell'indulgenza della perdonanza. Infatti, fino al 28 agosto 2023, i fedeli e i pellegrini che si recheranno all'Aquila potranno lucrare ogni giorno l'indulgenza plenaria partecipando ai riti in onore di San Celestino V oppure raccogliendosi in preghiera al cospetto delle spoglie del Santo per un conguro spazio di tempo.